Una delle cose belle che ci piace fare all'interno dell'osservatorio è premiare delle iniziative di digitalizzazione che aiutano la PA nella propria trasformazione digitale. Gli obiettivi del premi rimangono sempre i soliti, sostenere la cultura, generare meccanismi di condivisione, molte delle cose belle che vediamo ci piacerebbe che venissero portate a sistema. Ci vogliamo dare visibilità a chi fa bene e contribuire anche ai processi di ricerca perché molti da questi casi poi ci ispirano nelle percorsi di ricerca che facciamo nello stesso anno o negli anni successivi. Quindi qual è l'iter che abbiamo seguito? Abbiamo lanciato il premio per la selezione, abbiamo definito una serie di criteri per la valutazione dei premi e abbiamo coinvolto 50, abbiamo raccolto buone pratiche con una scheda strutturata, 50 quest'anno nonostante il covid, lasciatemi ringraziare queste amministrazioni e queste enti perché hanno fatto un lavoro incomiabile e abbiamo fatto valutare questi progetti da una giuria di qualità fatta da 53 esperti di innovazione digitale nel mondo pubblico che insieme a noi hanno votato sui sei criteri di valutazione tutte le candidature e i risultati che oggi vi proponiamo sono il frutto di questa valutazione combinata. Oggi siamo alla premiazione, prima di partire con la premiazione lasciatemi ringraziare almeno mostrandoli le tante persone che ci hanno dato una mano nello scegliere questi progetti. È stato un lavoro tutt'altro che semplice perché i progetti erano tutti di ottima qualità e cercheremo di dare loro visibilità sui canali dell'osservatorio o sulle testate giornalistiche che collaborano con noi perché meritano la visibilità e di essere conosciuti e portati al sistema. Abbiamo suddiviso i progetti in quattro categorie, la prima che vi voglio presentare è quella relativa alla imprenditorialità a servizio della PA. Questo è un premio che abbiamo introdotto lo scorso anno in cui premiamo le start-up e le PMI innovative italiane che hanno offerto soluzioni a supporto della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Oggi non abbiamo tempo di presentarvi i migliori progetti che sono stati selezionati, vorrei solo menzionarli prima di passare al progetto vincitore. Ci è piaciuto molto il progetto Waifu sviluppato da Tab Consulting, il progetto Officialis di gestione dei servizi privati e la piattaforma Smart Health di interazione multicanale assistiti sanità nella lotta al covid sviluppata da TELSRL. Tuttavia il caso che più di tutti ha meritato, secondo la giuria degli esperti, di essere qui con noi oggi è il caso Sentinella sviluppato da Giunco. Il caso è un caso molto interessante e vorrevo chiedere a Paolo Fornari che vedo con esso di raccontarci un poco brevemente, abbiamo tre minuti, siamo anche un filo in ritardo quindi ti chiedo di essere più conciso del solito. Il caso, a te. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per questo premio per il progetto Sentinella da parte di tutto lo staff di Giunco. Sentinella è una suite app più gestionale web sviluppata da Giunco per la protezione ambientale in mobilità. Perché nasce Sentinella? Sentinella nasce perché nei nostri comuni spesso vengono segnalati problemi, danni, criticità sul territorio che provengono però da fonti diverse e vengono poi gestite da enti differenti. Questo può creare confusione e può essere l'ostacolo ad una gestione efficiente e una risoluzione puntuale di queste segnalazioni ambientali. Per questo abbiamo sviluppato Sentinella. L'app può essere utilizzata dagli operatori ambientali durante i loro normali giri di routine, per questo si parla di protezione ambientale in mobilità. Le segnalazioni che vengono fatte di danni e criticità vengono poi recepite da un gestionale che le smista agli operatori di competenza che poi le risolveranno nel modo migliore possibile. Quali sono i vantaggi di Sentinella? Un primo vantaggio è sicuramente la gestione centralizzata di queste segnalazioni che ne migliora quindi l'efficienza. Un secondo vantaggio è il fatto che possono essere coinvolti diversi attori del territorio, ad esempio la polizia locale, l'ufficio tecnico del comune, la protezione civile, gli operatori ambientali e così via. In questo modo si amplia lo spettro di segnalazioni ambientali da risolvere e si evita il sovraccarico della gestione su pochi soggetti. Un terzo vantaggio è il coordinamento con Junker, un'altra app sviluppata da Giunco per la raccolta differenziata che è presente in 900 comuni in Italia. Con questa combinazione anche i cittadini potranno fare segnalazioni ambientali tramite l'app e contribuire così alla salvaguardia del proprio territorio. Sentinella è presente già in numerosi comuni italiani, ad esempio Salerno, Campobasso, Ancona, Carrara, nonché numerosi comuni della costiera amalfitana, in particolare vi porto l'esempio di Carrara in cui Sentinella aiuta a gestire ben 22 tipologie diverse di segnalazioni ambientali, dai guasti all'illuminazione pubblica, ai danni al manto stradale, dai rifiuti abbandonati. Quindi questo dimostra davvero la flessibilità di Sentinella per i diversi territori, una soluzione davvero smart ed innovativa per rendere la gestione delle segnalazioni ambientali più efficiente e per proteggere l'ambiente in cui viviamo. Grazie per l'attenzione. Grazie allora Paolo Fornari e aggiunco per questo premio.